In occasione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che ricorrerà il 1 febbraio 2021, in virtù del protocollo d'intesa siglato con il MIUR, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e il Ministero dell'Istruzione istituiscono la quarta edizione del concorso scolastico che è rivolto agli studenti delle scuole secondarie e di secondo grado dell'intero territorio nazionale, anche in collaborazione con i loro pari di altri paesi. L'anno scorso hanno partecipato al concorso anche le scuole medie inferiori. Una classe di Rimini, l'Istituto Fermi, ha ottenuto il primo premio e invece una classe del Serpieri ha avuto una menzione. Queste classi sono state premiate all'arsenale della pace. Era presente la Ministra Lucia Azzolina, che si è molto congratulata con loro, ha fatto tante felicitazioni a loro e anche alla nostra associazione. Per noi questo concorso è un motivo di orgoglio e siamo molto attivi affinché si faccia tutti gli anni e che tutti gli anni si possa entrare nelle scuole o in presenza o come facciamo adesso con i nostri mezzi di comunicazione per dire ai giovani che la guerra è una cosa orribile. Per consolidare questa collaborazione con studenti, studentesse e docenti, tra qualche giorno uscirà la piattaforma www.anwcg.it uno strumento, una piattaforma didattica dove gli insegnanti potranno vedere tutti i progetti sviluppati dall'associazione e che saranno proposti sia in modalità da remoto, quindi didattica a distanza e speriamo presto anche in presenza perché vorrà dire che la pandemia e l'emergenza sanitaria sarà diminuita e quindi potremo di nuovo svolgere le nostre attività all'interno delle scuole. Voglio ringraziare la Regione Emilia-Romagna che con il suo contributo ci ha dato la possibilità di realizzare questa piattaforma didattica.